Eccoci qua, vengo da Verona, sono napoletano, sono romano. Il trio è nato durante uno spettacolo drammatico. Loro facevano appena nel drammatico, hanno chiamato me tutte le settimane. Tu facciamo qualsiasi cosa, centri anziani, villaggi, votate, votate e divertite, vabbè. E vita, morte e miracoli! Buonasera! Buonasera a tutti, sono Salvatore Parcheggiatore, presidente dell'APA, associazione Parcheggiatore Abusivi Autorizzati. E ho aperto una bella scuola che costa poco, solo 50 euro di iscrizione, più una piccola percentuale sugli incassi. Entrino gli studenti, trasito, voglio trasito, un applauso, dai! Vai lì! Buonasera, buonasera, buonasera! Ehi, ma che stai facendo, il cammello? No, saluto la commissione. E tanto a Lucarelli, sempre zero, ti mette? Oh, grazie, troppo, non pensavo così tanto, grazie. Guarda la mano, non guardare la faccia. Ah sì, ecco, tenga. E che è questo? Ha ricevuto a Bonifico. A chi l'hai fatto a Bonifico? A Lucarelli. Ah sì, ma da dove vieni tu? A Verona. A proposito, ma a Verona Giulietta si affaccia sempre dal balcone. No, da quando è caduta i suoi hanno venduto la casa ai cinesi. E che hanno fatto? E hanno aperto un ristorante cinese. E come si chiama? E da Giulietta a tutta la... Ah, è buono, si sa qua, posso servire. E tu da dove vieni? Da Roma. E tu hai fatto un Bonifico? No, io ho fatto una polizza vita a Ruffini. C'è una polizza vita a sua insaputa? A Roma si usa così. Ah, è una tradizione, fanno le polizza vita. Ho capito. Allora, prova pratica. Tu fai il cliente. Hai mai fatto il cliente a provare? Con tu sorella. Eh, capo, state cercando parcheggio? No, mi sono per a memoria i numeri delle targhe. Eh, guardate un po', la macchina c'ha uno sfregge sulla fiancata. Mica uno. C'ha una ruota bucata. Pure quella di scorta. Forza c'ha il tergicistallo scassato. Manco ce l'ho... Forza c'ha lo specchio retrovisore destro rotto. Pure il sinistro. Scusate, ma la macchina chi ve l'ha venduta? Uno del comune. Ah, la volete ritrovare così? Come la mia? No. Guarda la mano e non guardare la faccia. Guarda la mano e non guardare... E che è questo? Armeno Moomonti. Ah, e questo come si fa? Vabbè, si fa questo. Ecco. E ora che faccio? Almeno rifletti. Promossi! Applausi! Dai! Un po' di vita, oh, e dai! Scusi! Eh, dica, dica, dica! E per il resto? Lo scoprirete solo parcheggiando. Sempre se la trovate. Aia! I vita, morte e miracoli! Eccoci qua, eccoci qua. Allora, Selvaggia Lucarelli. Beh, c'è qualcosa di profetico in questo spettacolo. In questa esibizione, come dire. Grazie, grazie. Al di là della previsione del mio voto, più o meno. Però, vabbè, il fatto che mi abbiate citato, in qualche modo, forse alzerà il voto di mezzo voto. C'è qualcosa? No, è troppo. È troppo. Elio! Sì, mi hanno comprata, sai. Paulino Ruffini. Dovreste darci un po' più di strumenti per entrare nel vostro mondo. Io vi perdo a volte se giocate col demenziale, col surreale. Vi perdo un po'. Però rimane una simpatia e un bel progetto. È stata una sfida, ecco. Complimenti. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.